Navigazione in rete più semplice a Sesto Fiorentino grazie all'installazione di Wi-Fi for You da parte di Estracom, la società di telecomunicazione di Estra ha infatti potenziato la rete pubblica Wi-Fi del comune fiorentino. Oltre 2 milioni di euro per portare il metano a Santa Colomba e ad altre frazioni del comune senese di Monte Rigioni, Centria dal prossimo anno amplierà la rete con una tubazione di oltre 10 km. Centria, la società di distribuzione di Estra, porterà il metano anche a Pietraia, frazione del comune aretino di Cortona, dove con uno scavo insieme alla rete gas sarà estesa anche la rete idrica. Nuova opportunità formativa offerta dall'Istituto Energia e Ambiente partecipato da Estra nel Valdarno. Il corso è sulla sostenibilità dei prodotti made in Italy del sistema manifatturiero toscano.